Buongiorno a tutti e benvenuti nel notiziario di Rominanzia TV. Vediamo insieme quali sono state le principali notizie della settimana per il settore agroalimentare. Secondo l'osservatorio sui consumi alimentari Ismea Nelsen Q, nel 2022 il carrello della spesa degli italiani è costato il 6,4% in più rispetto all'anno precedente. Questo valore percentuale è inferiore all'inflazione e dipende dalla composizione del carrello che si modifica per ritorno all'impatto. Gli aumenti del prezzo al consumo riguardano non solo i prodotti agricoli ma anche i passaggi intermedi come la logistica e il confezionamento e coinvolgono tutto il territorio nazionale. La spesa per i prodotti lattiero-gaseari è aumentata dell'8,6% con un aumento dei volumi tranne nel caso del latte fresco che è rimasto stabile. Il settore delle carni vede un incremento di spesa del 9,9% ma un lieve diminuzione delle quantità acquistate con uno spostamento verso tagli e aree merceologiche più economiche. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha presieduto un tavolo sulla crisi idrica a Palazzo Chigi, al quale hanno partecipato il vicepresidente e ministro Matteo Salvini, vari ministri e sottosegretari. Durante la riunione sono state concordate alcune misure per affrontare la siccità in corso tra cui la creazione di una cabina di regia a Palazzo Chigi tra tutti i ministeri interessati per definire un piano idrico straordinario nazionale in collaborazione con le regioni e gli enti territoriali, l'avvio di una campagna di sensibilizzazione sull'uso responsabile della risorsa idrica e l'individuazione di un commissario straordinario con poteri esecutivi rispetto a quanto programmato dalla cabina di regia. Il decreto legge del 24 febbraio 2023 numero 13, detto anche DLPNRR semplificazione, ha introdotto importanti novità per il settore agricolo riguardo alle comunità energetiche e all'autoconsumo diffuso. L'articolo 47 del decreto prevede semplificazioni in materia di installazione di impianti fotovoltaici sui terreni industriali, artigianali e commerciali, nonché in discariche, cave e lotti di cave non sfruttabili. Le comunità energetiche composte esclusivamente da piccole e medie imprese agricole cooperative e consorzi agricoli possono accedere agli incentivi per gli impianti a fonti rinnovabili e per gli impianti agrivoltaici. L'articolo 49 contiene tre modifiche e diversi decreti legislativi italiani riguardanti l'installazione di impianti eolici e fotovoltaici. La prima riguarda la pubblicazione della dichiarazione di avvio dei lavori per l'installazione. La seconda riguarda la semplificazione della procedura abilitativa per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati o in esercizio. Infine la terza riguarda l'installazione in aree agricole di impianti fotovoltaici che sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili previ a definizione delle aree idonee nei limiti consentiti delle eventuali prescrizioni o vincoli paesaggistici. Il Ministero della Salute e il Ministero dell'Agricoltura hanno pubblicato un decreto che nomina i membri del Comitato Scientifico Benessere Animale. Il Comitato ha il compito di definire le modalità di gestione del SQNBA come i requisiti di certificazione, il segno distintivo per i prodotti conformi e le procedure di armonizzazione e di coordinamento delle norme tecniche. Il Comitato sarà preseduto dal Dottor Giuseppe Blasi e Dottor Pierdavide Lecchini svolgerà il ruolo di Vicepresidente. Il CTSBA potrà individuare gruppi di lavoro per gli indirizzi produttivi e dovrà adottare un proprio regolamento interno di funzionamento entro tre mesi dall'insediamento. Il Consorzio del Parmigiano Reggiano ha annunciato il pacchetto di misure per sostenere l'equilibrio di mercato e finanziare i progetti di sviluppo dei caseifici produttori e degli operatori commerciali. Tra le decisioni prese dal CDA c'è l'aumento dello sconto scolmatura per il 2023 nella misura massima prevista dell'80%. Inoltre sono stati definiti investimenti straordinari per il sostegno dei progetti di sviluppo commerciale degli operatori sia in Italia sia nei mercati esteri e dei caseifici produttori. Gli investimenti aggiuntivi ammontano circa 3,6 milioni di euro portando il totale dell'investimento per lo sviluppo di mercato a 11,6 milioni di euro. Contestualmente sono stati annunciati i primi dati delle vendite in Italia di gennaio 2023 che hanno segnato un più 8,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. È stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto 23 dicembre 2022 inerente ai pagamenti diretti, accoppiati e disaccoppiati previsti dalla PAC. Tra i disaccoppiati troviamo la riduzione dell'antibiotico resistenza ed il benessere animale, mentre tra gli accoppiati troviamo il sostegno al reddito per i settori del latte, della carne bovina e ovicaprina. Una percentuale del 3% dei pagamenti diretti è destinata all'intervento Fondo Mutualizzazione Nazionale Eventi Catastrofali per gestire il rischio di catastrofi. Il testo completo del decreto è disponibile nel link in descrizione. È stato pubblicato il decreto 28 dicembre 2022 che determina i requisiti e le condizioni per la costituzione dei distretti biologici. Per biodistretti si intende territori in cui agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali hanno sottoscritto protocolli per diffondere il metodo biologico di coltivazione e valorizzazione della gestione sostenibile. Nel decreto pubblicato sulla GU numero 47 del 24 febbraio 2023 sono approfonditi i seguenti argomenti. La composizione del comitato, i soggetti partecipanti, la procedura di riconoscimento, i requisiti e le condizioni per il riconoscimento, le condizioni per il funzionamento amministrativo, gli organi, la revoca del riconoscimento. Il testo integrale del decreto può essere scaricato nel link in descrizione. La Commissione europea ha adottato una proposta per introdurre un'etichettatura digitale volontaria per i prodotti fertilizzanti dell'Unione europea, al fine di informare meglio gli utenti e ridurre i costi. L'etichettatura digitale è già utilizzata per alcuni prodotti contenenti sostanze chimiche e sono allo studio norme per applicarla anche su altri prodotti. I fornitori di prodotti fertilizzanti che soddisfano gli standard UE saranno autorizzati a fornire informazioni su un'etichetta digitale. Ciò permetterà di informare meglio gli utenti portando a un uso più efficiente dei prodotti fertilizzanti. Tale proposta semplificherà gli obblighi di etichettatura per i fornitori e ridurrà i costi. L'etichettatura digitale sarà volontaria e i prodotti continueranno ad avere le informazioni importanti su un'etichetta fisica. La proposta è stata inviata al Parlamento europeo e al Consiglio e si applicherà due anni e mezzo dopo la loro adozione. Dopo il calo di dicembre 2022 con un meno 23,4% le vendite di grana padano hanno preso la rincorsa chiudendo il primo mese dell'anno con un più 29,11% rispetto allo stesso mese del 2022. Come ha fatto notare il direttore generale del Consorzio di tutela Stefano Berni, il bimestre dicembre 2022-gennaio 2023 totalizza una flessione del 3,7% delle vendite di grana padano rispetto al bimestre delle precedenti annate. Il rallentamento è quindi meno significativo di quanto a prima vista potesse apparire guardando le scorte e il calo di dicembre. Il rallentamento è legato solo, ha precisato Berni, all'aumento del 18% dei prezzi al dettaglio. Occorre quindi guardare all'anno con prudenza ma senza allarmismi. Il disegno di legge presentato dall'onorevole Mirko Carloni, presidente della Commissione Agricoltura della Camera, mira a contrastare il fenomeno del meat sanding, ovvero l'uso di denominazioni riferite alla carne per prodotti di origine vegetale che sfruttano la notorietà dei nomi della carne. Il provvedimento propone di vietare l'uso di determinate denominazioni per i prodotti contenenti proteine vegetali, al fine di garantire la tutela delle produzioni zootecniche del Paese e la consapevolezza dei consumatori sulle differenze nutrizionali tra i due tipi di prodotti. L'iniziativa ha ricevuto il plauso di Assica, che la considera ottima per garantire la concorrenza leale tra operatori del settore alimentare. La proposta di legge sarà discussa nelle prossime settimane all'interno della Commissione. Per oggi è tutto, grazie per essere state qui con noi, vi auguriamo un buon proseguimento di giornata.